Interviene in dichiarazione di voto la consigliera Agnello. Prego consigliera, per tre minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei dire che noi non stiamo dormendo affatto su un argomento così importante. Anzi, con il Presidente Daniele Diaco della Commissione Ambiente abbiamo incontrato gli uffici. Vengo subito al sodo della questione. Gli uffici stessi che hanno collaborato alla stesura di questo regolamento, approvato con delibera 26 2015, hanno detto che in realtà ci sono diverse difficoltà per attuare il regolamento stesso. Proprio difficoltà che hanno chiesto a noi, in quanto maggioranza, al Governo di Roma Capitale, di cercare insieme a loro di superare. Difficoltà proprio nell'attuazione di questo regolamento, che riguarda non solo la mappatura, ma anche l'osservatorio previsto e insomma tanti altri elementi. Noi abbiamo preso tutte queste loro difficoltà, ne abbiamo parlato lungamente con loro, abbiamo trovato prima di tutto, abbiamo voluto che gli uffici stessi avessero tra di loro un rapporto di lavoro, cioè di incontrarsi su questo e appunto ragionare prima di tutto proprio sulla mappatura, perché abbiamo capito insieme a loro che se non c'è una mappatura delle antenne radiobase sarà difficile poi attuare l'intero regolamento. Inoltre voglio aggiungere che per quanto riguarda un'antenna portata proprio in Commissione Ambiente di Via Cairoli, proprio su input della Commissione, insomma che è presente, chi c'era in quella Commissione lo può dire, proprio il Dipartimento Urbanistica si sta muovendo e sta verificando lo spegnimento di quell'antenna, perché è chiaramente vicino a un sito sensibile che è una scuola. Aggiungo inoltre che l'impegna, il secondo impegna di questa mozione è praticamente contrario al principio costituzionalmente garantito della comunicazione. Ah no, questo principio costituzionalmente garantito va proprio a cozzare del problema per cui non è possibile che un Comune vieti il rilascio di autorizzazioni di installazione di antenne radiobase, ma deve comunque trovare un altro posto, c'è un posto sussidiario. Ed è proprio questa la difficoltà degli uffici, che non avendo la mappatura non riescono ad individuare un altro posto dove installare l'antenna e quindi attuare così la normativa sulle antenne radiobase, che ricordo è anche una normativa del 2003. Quindi diciamo che noi siamo sul pezzo, mi dispiace che il consigliere Corsetti debba sempre tirare fuori argomentazioni che non rilevano in questo momento, perché noi siamo sul pezzo, stiamo studiando, come potete sapere abbiamo ben chiaro l'argomento delle antenne che ci sta a cuore, perché noi al tempo, nella scorsa consigliatura, già avevamo rilevato delle problematicità su questo regolamento. Il voto mi viene suggerito di astensione a questa mozione. Grazie.